Nel derby di Pescara contro l'Augane è arrivata un'altra vittoria, conferma del grande momento che state attraversando, un successo costruito ancora una volta sulla difesa. Sì, abbiamo disputato una bella partita in un campo ostico, siamo subito partiti forti, abbiamo subito indirizzato la partita, abbiamo avuto magari a metà, verso l'inizio secondo tempo, un piccolo calo, però ci siamo subito ripresi. Comunque era un campo duro, lo sapevamo, abbiamo fatto del nostro meglio e ci siamo riusciti. Sabato avete un'altra partita che si giocherà in Abruzzo, ma di fatto non è un derby perché affrontate la formazione del Campus Italia, che è la formazione creata dalla Federazione per far crescere i migliori giovani. Sì, sarà un'altra partita molto dura, loro sono tutti ragazzi, corrono molto e non hanno niente da perdere, quindi ci aspetterà veramente una partita combattuta. Campus Traparenzi che viene da una bella vittoria in esterna e soprattutto ci sono degli atleti che conoscete, De Ruvo sarà assente per infortunio, ma c'è comunque Tommaso De Angelis. Sì, come ho detto, è una partita, loro sono molto talentuosi, molto forti, corrono, sarà una partita intensa, cercheremo di dare il meglio, andiamo lì, noi abbiamo tanto da perdere, però cercheremo di vincere. Grazie.